in collaborazione con tre panoce un viaggio tra sapori ed emozioni in un contesto unico con la cucina dello chef tino vettorello buongiorno a tutti oggi a linea diretta parliamo di alpini perché questa è una settimana importante che precede la durata nazionale dell'aquila abbiamo due ospiti che sono pronti insomma a partire per questa nuova avventura il presidente della sezione ana di treviso raffaele panno buongiorno e antonio zanata che è coordinatore del centro studi dell'ana di treviso buongiorno noi abbiamo parlato abbiamo accennato all'aquila ma in realtà quello che avete davanti voi alpini trevigiani è un mese intero di iniziative presidente allora facciamo un po il calendario delle tappe che vi aspettano da qui alla fine del mese prossimo ecco cominciamo questa settimana siamo già in movimento per l'aquila e avremo la nostra donata nazionale domenica la domenica successivo successiva saremo a nervesa della battaglia tre giorni di adunata sezionale è un adunata sezionale particolare perché inizieremo anche le commemorazioni del centenario della grande guerra perciò iniziare cominciare con nervesa della battaglia che è stata il paese che nel 18 con la battaglia del sostizio è stato il centro poi continueremo a fine mese ci sono altre manifestazioni e poi a giugno abbiamo la triveneta a conegliano perciò un mese intenso ecco la donata dell'aquila cominciamo da qui presidente allora noi seguiremo tra l'altro con uno speciale focus giovedì sera questo appuntamento lo ricordiamo domenica adunata dell'aquila che cade in una domenica diversa rispetto al solito quest'anno rispetto alle tradizioni di voi alpini questo ha creato qualche problema ma no perché si sapeva già un anno e mezzo prima perciò quando viene decisa la donata a settembre un anno e mezzo prima perciò uno si organizza ecco solo per motivi organizzativi è stata spostata nella settimana ecco voi tra l'altro c'è stato anche il tira e molla delle elezioni con la data delle elezioni la donata eccetera ma insomma per fortuna capitolo superato all'aquila è un ritorno per voi alpini in che senso è un ritorno su tutti gli aspetti perché è la prima donata intanto nazionale che si fa all'aquila ma il consiglio nazionale ha voluto premiare questa città per portare non solo un ricordo di quello che c'è stato con il poste remoto quello che gli alpini hanno dato e hanno fatto con alpini protezione civile con tutte le associazioni di volontariato che si sono adoperate però era anche portare un po di di conforto diciamo così perché non ancora tutta l'aquila è recuperata diciamo le strutture abbiamo ancora c'è ancora molto da lavorare perciò un po di sollievo un po un qualcosa portano anche gli alpini difatti la donata quest'anno è sparsa un po in tutto il territorio l'aquila è quel territorio è quel centro in mezzo alle montagne che spazio è quello però gli alpini quest'anno sono non so ci sono accampati diciamo si accamperanno in vari in vari paesi dove hanno lavorato spesso noi avremo molti delpini la nostra protezione civile a san demetrio dove hanno lavorato e hanno portato il loro aiuto altri sono a 10 chilometri altri a 5 perciò poi la domenica ci ritroveremo tutti in città ecco che esperienza è stata l'aquila ma che esperienza è quella del post terremoto ne avete vissute diverse post terremoto si può vivere in tante in tante in tante forme c'è chi porta il proprio aiuto con materiale e vive i giorni successivi del terremoto i primi che sono arrivati che hanno trovato la desolazione hanno sofferto pur lavorando ma vivono in sofferenza con la con la popolazione pur da portando il proprio aiuto il proprio apporto il proprio lavoro quello è tutto quello che possiamo fare nell'ambito della ricostruzione o o degli aiuti subito immediati poi rimanendo la un mese due mesi dieci giorni venti giorni chi più chi meno si instaura quel rapporto di amicizia che dura e continua perciò adesso ritornare sempre un bel ritrovarsi diciamo ecco e vediamo che siamo sempre bene accolti ogni volta che andiamo giù ecco antonio zanatta sono dei ricordi che si mantengono per sempre di queste esperienze delle immagini delle situazioni che è difficile poi dimenticare per voi alpini diciamo che in effetti detta da uno che ha visto e vissuto sulla propria pelle il terremoto del triuli perché in quell'epoca io ero militare da quelle parti sentire parlare di terremoto più che fisicamente il tremolio del terreno c'è un qualche cosa che si insinua nella spina dorsale ed è difficilmente spiegabile la sensazione dei rapporti che nascono nell'ambito di situazioni così di emergenza quindi non posso che essere d'accordo con quanto ha detto il presidente sul fatto che la caratteristica principale che noi cerchiamo di preservare di continuare è quella di dare per la soddisfazione di farlo e questo fino ad oggi è sempre pagato ecco tra l'altro proprio la marca trevigiana questa mattina ha vissuto una scossa per fortuna non fortissima ma avvertita un po dappertutto diciamo dal capoluogo verso nord e soprattutto nella fascia della pedemontana e proprio nei giorni scorsi è ricorso l'anniversario 39 anni dal terremoto del triuli quindi sono davvero date che costituiscono delle scadenze per la storia di voi alpini per le esperienze di voi alpini certo che sì naturalmente diciamo che la sensazione che qualcuno ha avuto stanotte sicuramente così come per le altre a cui cerchiamo prima sono cose che sono di difficile spiegazione per chi magari è riuscito a non vivere sulla propria pelle sicuramente la sensazione che il terreno che trema trasmette è un è un qualche cosa di pesante di esplosivo è vero è e questo credo che dalla delle popolazioni di friuli a quelle poi che eh mano mano hanno subito eh situazioni eh di emergenza nell'arco di tutta la nostra disastrata penisola eh abbiano grandemente dimostrato che con la solidarietà e con l'aiuto di tutti si riesce comunque a rinascere vediamo i fatti di Genova vediamo i fatti dell'Aquila stessa è chiaro che eh non siamo qui a segnalare quello che tutti sanno e tutti pensano e cioè che ci sono delle speculazioni su questi eventi eh noi ci preoccupiamo abbastanza poco di questo a dire la verità anche se ci fanno arrabbiare e questo è innegabile ma eh eh ripeto fondamentalmente la soddisfazione di riuscire ad aver fatto qualche cosa e eh primo si legge negli occhi della gente secondo è una sensazione interna che è impagabile ecco presidente Panno lei prima mi diceva che l'ha sentito chiaramente il terremoto questa mattina è un po' così che sensazione è poi pensare di andare all'Aquila domenica sono così piccole coincidenze che fanno riflettere ma ti fanno riflettere perché la certezza della tranquillità non ce l'hai mai e speri che non succeda che che non succeda che non avvenga ma non solo da noi in nessuna parte del mondo eh stiamo vivendo da lontano quello che è successo in Nepal e stamattina c'è stata un'altra scossa ancora molto forte perciò vediamo quali sono i disastri eh i disagi quello che porta principalmente in quelle zone che magari sono sono meno ricche meno e vivono in disagi rispetto al il nostro vivere quotidiano e dove non si è pronti a intervenire come qui e dove è difficile intervenire perché è difficile perciò speriamo di andare giù e portare il sole e portare gioia perché di questo l'Aquila purtroppo ancora molto bisogno allora duemila alpini trevigiani previsti giù all'Aquila diceva prima la logistica insomma un po' diversa dal solito proprio perché il centro storico purtroppo dell'Aquila è ancora devastato ci sono delle parti che sono ancora zona rossa perciò non potremo entrarci però questo non farà differenza sarà sicuramente una bella donata partecipata ne sono sicuro perché gli alpini normalmente anche se ci lamentiamo però alla fine ci siamo tutti ecco e ci sono dei gruppi eh della provincia di Treviso che metteranno così in atto anche qualcosa di particolare all'Aquila una una marcia ci sono un gruppo alpini che partirà sono già in movimento in partenza stamattina sono partita stamattina presto e faranno una marcia che da Teramo arriveranno all'Aquila è un piccolo percorso però ogni anno ogni adunata preparano un percorso e lo fanno fanno una giornata e mezza due giorni a piedi così come ci sarà una marcia potremo sentire Antonio qui che c'era una marcia per la nostra Triveneta il prossimo mese che è già arrivata al sesto percorso della memoria che potrebbe spiegarla meglio lui allora 12 13 14 giugno Conegliano adunata Triveneta degli alpini allora che marcia ovviamente proprio nel nel segno così delle celebrazioni per i cento anni della grande guerra diciamo che in effetti il motivo principale l'etmotif proprio un po così ripercorre quel pezzo di fiume sacro alla patria noi siamo giunti con questa alla sesta edizione abbiamo cominciato nel 2006 con la donata di asiago è stata una una così manifestazione che è nata un po in sordina e che ha visto alla fine cinque partecipanti e con l'edizione invece di quest'anno siamo arrivati a 30 e abbiamo dovuto anche fermare un attimo l'entusiasmo perché effettivamente è un qualche cosa che ha preso piede l'idea che ha fatto nascere il tutto è stata fondamentalmente quella di ripercorrere in qualche forma delle situazioni dei dei luoghi delle condizioni di vita seppur molto edulquerate che in qualche maniera hanno visto i nostri nonni combattere nel nel conflitto nel primo grande conflitto mondiale e quest'anno non abbiamo evidentemente montagne da superare come abbiamo fatto nelle elezioni precedenti però diciamo che comunque niente il piave ha da recriminare rispetto al grappa ripercorreremo quello che nel 1917 è stato un pezzo del confine dell'italia e andremo accompagnati come al solito dai nostri animali dai vostri muli esatto quanti saranno? saranno sicuramente due speriamo di riuscire ad avere anche l'accompagnamento del terzo veterani anche loro di queste marce? diciamo che i veterani ormai sono abbastanza introvabili ecco sono sono stati chiamati amici imperitori degli alpini a prescindere da dalla loro dal loro grado diciamo militare ecco ricordiamo che questo tipo di animale è ampiamente utilizzato ancora in parecchie attività soprattutto montane e gli alpini evidentemente hanno come terreno di elezione la montagna e quindi sono parecchio attaccati a questo tipo di rapporto che si costruisce con questi animali abbiamo in programma tornando alla passeggiata che abbiamo così dal Triveneto chiaramente voluto dare onore a quelli che sono i punti un po' salienti anche che si troveranno nel percorso faccio esempio il molino La Sega faccio esempio il monumento di Saletual e quant'altro e una volta di più abbiamo trovato con enorme soddisfazione la partecipazione indiscriminata di tutti quelli ai quali abbiamo chiesto di poter in qualche maniera essere ad aiuto e questa è mi ripeto ma è una grossa soddisfazione Ebbè ci credo ecco Conegliano presidente cosa significa per voi? Conegliano è una delle tre manifestazioni in cui un alpino non dovrebbe mancare cioè è nata Triveneta la nazionale la Triveneta e la sezionale quest'anno la Triveneta oltretutto a motivazioni un po' particolari Conegliano sta lavorando ancora tantissimo e sarà una veramente dico una bella una piccola dunata nazionale come è stata quella di Feltre così sono tutte belle però magari è zona e terra di alpini Conegliano perciò ce ne saranno tanti che arriveranno da tutta Italia veramente da tutta Italia Quante presenze preventivate? Ma prevedono non so loro dicono 20.000 20.000 alpini però non si sa In una città di 40.000 abitanti è un bel impatto Penso che sia imprevedibile quante arriveranno perché si sono andati da fare tantissimo hanno organizzato benissimo un'altra giornata Noi speriamo di essere molto numerosi anche visto che stiamo collaborando con molto bene con Conegliano, Vittorio Veneto e Valdobbiadene in una potenziale adunata del 2017 nazionale Ecco e a questo volevo arrivare a questo volevo arrivare perché insomma questi sono passi passaggi che si stanno compiendo anche nella speranza di agguantare questo traguardo si sta lavorando per questo Diciamo che per la prima volta forse stiamo organizzando una o chiedendo una donata nazionale al Consiglio nazionale ma non la chiediamo solo noi Treviso dove si svolgerà la donata ma viene chiesta da un territorio da quattro sezioni da un territorio che è stato interessato nella Grande Guerra dove tutti hanno vissuto in prima persona chi col profugato, chi magari con delle persone, i familiari che hanno combattuto e che magari sono anche morti o dispersi in guerra perciò è un territorio che chiede la donata più che la sezione di Treviso abbiamo cercato di lavorare assieme, stiamo lavorando assieme abbiamo diciamo buone speranze, non ottime ma speriamo Siete fiduciosi comunque Perciò a Cunegliano quello che hanno bisogno noi diamo una mano a loro loro lo diamo una mano a noi e perciò ci si aiuta come si fa a fare alpini Ecco, quello che è trascorso Zanata tra l'altro è stato anche un anno importante per i gruppi trevigiani strettamente riferiti alla città di Treviso per gli alpini con delle trasformazioni importanti che hanno ancora di più unito diciamo questa realtà alpina, cosa è successo? Beh, allora diciamo che formalmente con l'inizio di quest'anno si è formato un gruppo che nasce dall'accorpamento di tre gruppi storici della città Per fare un piccolo cappello storico il primo gruppo cittadino è quello che si chiamava gruppo città che nasce negli anni 50 poi per una serie di ragioni che le garantisco non so spiegare identificare è nato poi il gruppo Salsa nel 1972 e quindi poi ulteriormente il gruppo intitolato al generale Reginato a metà degli anni 90 da molto tempo perché garantisco essendo stato nella compagine che ha cercato di creare questa riunificazione abbiamo cominciato a lavorare insieme la prima grossa fatica è stata diciamo concretizzata con la donata svoltasi nel 2008 a Bassano dove abbiamo creato un campo comune dove circa 120 alpini che arrivavano dai tre gruppi cittadini si sono trovati a fare campo assieme e quello sostanzialmente ha rappresentato la cessione della miccia da lì abbiamo fatto molta strada ci sono state delle difficoltà come è normale che sia peraltro nel momento in cui ci sono dei processi evolutivi e finalmente siamo riusciti a concretizzare questo sogno sostanzialmente che secondo me non rappresenta esclusivamente una diciamo così fisima se mi passa il termine di alcuni personaggi che volevano avere una realtà corposa ma credo che una città come Atreviso capoluogo di provincia sede sezionale e comunque città storica abbia le necessità oltre che il dovere di avere una rappresentanza nell'ambito dell'associazione nazionale alpini che riesca a coprire tutte le varie operazioni che nell'ambito associativo vengono sviluppate progettate e sviluppate e questo è abbastanza importante evidentemente non c'è niente anzi benvengano tutte le attività che sono svolte nell'ambito provinciale ma effettivamente bisogna rendersi conto che c'è la necessità che nell'ambito cittadino ci sia la possibilità di fare fronte certo e questo con una corposità che è formata da rimettersi insieme di questa gente si spera che riesca a offrire la risorsa per poter affrontare queste questioni siamo partiti direi bene forse addirittura un po' meglio delle aspettative e c'è una mi sto un po' spingendo troppo una ottima vorrei dire familiarità fra la gente la voglia di vivere assieme e questa è una voglio dire situazione che mi mi fa ben sperare perché abbiamo recuperato con questa operazione anche una serie di persone che non si sentivano più parte della famiglia e con questa operazione sono rientrate con voglia e con partecipazione direi assolutamente bene anche questo dà uno spirito diverso all'assemblea sezionale di Nerveza ma lo spirito ma questo ha aperto una strada lo dicevo stamattina in un'altra riunione dove due gruppi assezionali inaugureremo la sede di due gruppi due gruppi che rimarranno autonomi ognuno con le proprie peculiarità però con la stessa sede la strada dell'associazione è questa se non verrà ripristinata la leva avremo sempre meno alpini perciò unendo le forze si potrà ancora continuare con l'attività che diceva prima la zanata ma oltretutto a parte in una città ma anche nei nostri comuni che abbiamo una volta alpini ce n'erano perciò non era sentito questo bisogno adesso sempre più per non ritrovarci un po' isolati per far fatica a far fronte a queste attività che non vogliamo perderle e perciò se vogliamo portarle avanti dobbiamo avere una forza non è facile perché la tradizione la mentalità il campanilismo ci saranno anche tra gli alpini è normale è normale questo però poi guardandoci in faccia io ho seguito tutto l'iter della fusione di questi tre gruppi e dico che guardandoci parlandoci anzi hanno fatto un bellissimo lavoro ecco accennavo insomma anche in vista del 2017 di quello che voi vi aspettate sperate il peso specifico di Treviso poi se la donata viene fatta a Treviso è logico che tutti collaborano però alla fine devi batti sempre su Treviso poi Treviso città capoluogo ha manifestazioni che fuori nei vari paesi ce ne sono in tutte durante tutto l'arco dell'anno però Treviso ne ha molti di più perché è sede di diverse associazioni d'arma ci sono le caserme manifestazioni commemorazioni ce ne sono tantissime e sono sempre chiamati in causa perciò avendo un gruppo forte un gruppo numeroso riescono anche senza pesare sempre sui soliti due o tre alpini essere presenti partecipi e collaborare ecco tra l'altro dicevamo all'inizio di questa trasmissione voi avete una serie di scadenze ma insomma al di là dell'aquila dell'assemblea sezionale poi di quella triveneta avete anche altri appuntamenti feste presenze anche il primo weekend di giugno appunto sarete tra la gente anche per tentare di recuperare ecco quegli alpini che magari non si sono mai avvicinati all'associazione come mai tante persone non sono ancora recuperabili dal vostro punto di vista come volontariato ci sono tantissimi non iscritti all'ANA nazionale però come sappiamo tanti hanno anche altre attività altri interessi perciò pagare la tessera così per pagarla e non presentarsi mai tanto dicono non mi iscrivo e bisogna cercare di creare quella curiosità quella voglia di far parte di questa nostra grande famiglia perciò pian pianino qualcuno si recupera qualcuno si perde però avremo le potenzialità per aumentare il numero ci sono io mi auguro e spero che non dico niente ma in futuro avremo qualcosa di importante potremo recuperare diversi iscritti io ho presente Bergamo l'ultima donata nazionale che hanno fatto va bene è la sezione più grande d'Italia ma in un anno hanno recuperato 5.000 iscritti non sono pochi non sono pochi ma perché poi tra l'altro a voi alpini si avvicinano anche i non alpini avete molti simpatizzanti anche penso tra i giovani ragazzi di oggi la curiosità ci deve essere quando vi vedono alle prese con le vostre attività ecco vi è in voglia tutto sommato di avvicinarsi a una realtà che si sente a pelle che è ancora autentica allora diciamo che questo è un argomento che particolarmente sta a cuore all'associazione nazionale e in particolare all'associazione nazionale sezione di Treviso ci sono delle iniziative che riguardano la protezione civile con terremoto di un rischio con quelle settimane che vengono organizzate per i ragazzi della scuola secondaria e che vivono in praticamente in simbiosi con i volontari della protezione civile apprendono le tecniche apprendono delle logiche e apprendono soprattutto un paio di particolari situazioni che difficilmente sono così toccabili con mano il rispetto per la natura e il rispetto per la gente e questa è una cosa che è fondamentale un po' un po' la causa di questa mancanza mi permetto di esprimermi in questo senso è anche nella sospensione della leva non esiste più la possibilità di avere una scuola che insegni il senso civico che insegni il rispetto e che insegni il senso del dovere e su questo l'Associazione Nazionale Alpini sta molto lavorando sia a livello nazionale che a livello locale poi il centro studi con tutte le attività dedicate alla scuola sta cercando di portare a conoscenza degli studenti dalla primaria alle superiori chiaramente con logiche e approcci diversi quelle che sono le varie situazioni che si vengono a vivere sia nell'ambito di quella che è la nostra associazione in primis ma anche per quanto riguarda tutto quello che è il mondo che ci circonda e la soddisfazione di vedere che il mondo della scuola si fa in prima persona promotore di far partecipare gli alpini alle lezioni frontali alle lezioni all'aperto dopo che all'inizio c'era stata come è ovvio una certa difficoltà nel farci conoscere diciamo che di per sé è il risultato insomma sostanzialmente poi evidentemente ci sono anche tutte quelle attività adesso per esempio per il mese di marzo di maggio chiedo scusa in un istituto superiore a Treviso c'è un servizio di guardania ad una mostra sulla grande guerra l'istituto è il Riccati dove nei pomeriggi ci sono degli alpini che vanno lì a raccontare a chi dovesse averne bisogno la storia di quello che viene messo in mostra e direi che il fatto che come dicevo prima queste cose avvengano vuol dire che la sensibilità è stata creata che è stato recepito il messaggio e che soprattutto tutto ciò è il fondamento di quello che noi cerchiamo di trasmettere insomma ecco presidente Panno vuole aggiungere qualcosa su questo è un settore questo importante proprio per portare avanti le vostre tradizioni i vostri valori personalmente come sezione di Treviso devo dire che abbiamo un gruppo di lavoro appunto qui rappresentato col centro studi che vanno nelle scuole continuano settimanalmente cioè hanno l'imbarazzo della scelta a questo punto sarà il centenario sarà che noi avevamo come sezione abbiamo cominciato con il progetto Sarroguardia della Montagna ad andare nelle scuole e fare delle lezioni di un'ora un'ora e tre quarti due ore al massimo parlando di montagna di flora di fauna e un po' di storia alpina attualmente si fa forse un po' più di storia anche perché nelle scuole l'educazione civica e la storia stanno scomparendo perciò certe certe memorie se non le portiamo avanti noi vanno disperse però abbiamo un gruppo di alpini veramente bravi che si stanno adoperando per questo ecco appunto proprio con Nervesa di fatto voi date il via anche alla vostra partecipazione alle commemorazioni per il centenario della grande guerra e poi ci sarà sicuramente un percorso più lungo da compiere Sì diciamo che già da un anno alcuni gruppi organizzano abbiamo una mostra itinerante con l'aiuto della provincia e diversi gruppi hanno già allestita e continua nei vari nei vari nei vari gruppi un'altra mostra verrà allestita fra poco cioè una nuova mostra che abbiamo appena acquistato dalla nazionale e questo sarà per tutto il periodo del centenario fino al 2018 ecco adesso sembra che tutti abbiano voglia di correre tutti voglia di fare però abbiamo tempo fino al 18 per poter commemorare degnamente questo avvenimento ecco voi alpini tra l'altro che siete custodi sicuramente della storia della grande guerra insomma lo fate da sempre questo di portare avanti ad esempio le scolaresche le scolaresche a Cimagrappa le scolaresche allo Sari del Montello le scolaresche a Fagra della Battaglia già da diversi anni vengono accompagnate sempre con qualche alpino che poi spiega e vedo che c'è veramente l'interesse dei giovani ad ascoltare perché sono cose nuove per loro sono veramente una novità vuol dire che in casa pochi ne hanno parlato e a scuola ancora meno certo e poi sicuramente insomma il fascino di sentire raccontare da voi secondo me aumenta questo interesse e questa impressione che possono avere ecco allora il tempo a nostra disposizione sta finendo allora ricordiamo l'appuntamento che Rete Veneta tra l'altro seguirà domenica con la dunata nazionale degli alpini all'Aquila abbiamo detto una dunata dà il sapore particolare per naturalmente tutte le vicende legate al terremoto e per l'impegno che voi alpini avete profuso per dare una mano a quelle popolazioni che sicuramente ricambieranno con un abbraccio grande la presenza degli alpini italiani all'Aquila poi abbiamo l'assemblea sezionale abbiamo detto di Nervesa e poi l'appuntamento naturalmente imperdibile con Conegliano Zanata vuole aggiungere qualcosa? Solo una piccola precisazione sul fatto che è indiscutibile che l'associazione nazionale dei alpini abbia fra le sue mire il ricordo e il riconoscimento dell'onore a quanti hanno combattuto mi permetto però di ricordare che gli alpini non hanno smesso di lavorare per l'Italia e lo fanno quotidianamente e così come altre ovviamente associazioni di volontariato sono presenti sul territorio sistematicamente e non solo quando succede qualche cosa ma proprio anche per concetto di solidarietà dal punto di vista dell'impegno reale e quotidiano questa è una cosa a cui ci teniamo in maniera particolare Presidente Sì fa parte del nostro DNA specialmente soprattutto per quelli che hanno fatto il servizio militare però come si diceva prima i giovani vediamo che molti ci sono tantissime richieste di giovani abbiamo tantissimi aggregati amici degli alpini e anche quelli volonterosi desiderosi di fare il volontariato e lo fanno anche se non hanno fatto il servizio militare ma lo fanno con dedizione perciò benvengano nelle nostre fila a dimostrazione che il vostro messaggio è arrivato è arrivato perciò questa è una soddisfazione particolare Allora i telespettatori di Rete Veneta ricordo ovviamente domenica l'appuntamento con la Dunata Nazionale dell'Aquila degli Alpini giovedì lo speciale focus ecco giovedì sera dedicato a questo appuntamento che tantissimi non aspettano altro che seguire perché insomma abbiamo sempre degli ascolti straordinari proprio durante lo sfilamento degli Alpini e abbiamo detto saranno 2000 addirittura i trevigiani giù all'Aquila io ringrazio i nostri ospiti Raffaele Panno presidente della sezione ANA di Treviso grazie a voi rivedremo molto presto perché qui il calendario è molto fitto abbiamo detto gli appuntamenti sono tanti e Antonio Zanatta coordinatore del centro studi dell'ANA di Treviso grazie ancora e buona adunata a questo punto a tutti voi grazie grazie telespettatori di averci seguito fino a questo momento e naturalmente appuntamento alle prossime puntate di Linea Diretta in collaborazione con Ascotrade liceo gas energia dalle nostre mani al traghetto cucina di qualità e tradizione pizza unica e originale griglia 100% made in Italy grazie a tutti